Siamo qui oggi per farci il vaccino e creiamo a tutti i panni perché facciamo il vaccino ce lo facciamo per andare a scuola e poi pure per andare al mare Sì, sono emozionata, siamo tra i primi e quindi speriamo che questo inizio sia di buon auspicio per tante vaccinazioni Quindi un po' di gel L'unico mezzo che abbiamo per tornare un po' a vivere Dobbiamo vaccinarci, basta, togliamo queste mascherine, soprattutto loro, fidiamoci no? Ci sono tante mamme, tanti papà, emozionati e contenti di portare i bambini finalmente a vaccinarsi per tornare a giocare liberamente Che c'è scritto? Io mi sono vaccina È veramente un'emozione enorme e la consapevolezza vera di aver fatto un atto d'amore immenso, un grandissimo regalo ai miei figli Linea notte, il racconto della giornata